La piccola chiesa della Madonna delle Grazie è stata eretta nel 1890 in sostituzione a quella costruita intorno al 1870 e in seguito abbattuta per la costruzione dell'attuale cimitero in contrada Minimenta. In seguito furono effettuati numerosi lavori che portarono all'ampliamento della chiesa e grazie alla cooperazione del concittadino Biagio Sorce, la chiesa fu arricchita con una statua linea dello scultore Miele Caltagirone. Oggi la chiesa risulta essere meta di numerosi pellegrinaggi durante il periodo estivo e di grande devozione popolare. I festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie si tengono la prima domenica di agosto di ogni anno con una lunga processione che attraversa le vie del piccolo centro e che si conclude con meravigliosi fuochi di artificio. Grazie per la visione!